Diciamo che è un'occasione molto importante perché comunque noi come Centro Nazionale Contro il Bullismo, Bullistop, ci occupiamo di bullismo da tantissimi anni, cyberbullismo. E quindi questa occasione di questa anteprima è dove ci sono questi donatori che ci aiutano perché noi dando comunque supporto legale gratuito, psichiatrico, pedagogico, abbiamo sempre bisogno dei fondi perché siamo dei professionisti che ci siamo uniti ormai da tantissimi anni e andiamo in giro per tutta l'Italia, però il Centro Nazionale Contro il Bullismo è fatto dai giovani. Ecco perché Man in Black, il film per i giovani, ci saranno tantissimi ragazzi di Bullistop, non solo persone importanti, sono loro le persone importanti per noi, avranno gli occhiali e quindi le possiamo mettere. E quindi il cinema, più se ne parla del bullismo e meglio è. Dobbiamo parlarne, ma non soltanto quando succede il caso di bullismo, quando c'è l'evento di cyberbullismo, ma dobbiamo parlarne costantemente. Se tutti noi facciamo un qualche cosa, sempre riusciamo forse a prevenirlo. Ecco, come facciamo noi a casa a capire chi è vittima di bullismo, sia cyber sia nella vita reale? Diciamo che ci sono comunque delle piccole patologie che si notano nella vittima di bullismo. Spesso non vuole andare a scuola, si chiude in se stesso, si chiude nella sua cameretta, torna a casa e quando gli si fa la fatidica domanda come è andata a scuola ti risponde bene. E noi genitori ci fermiamo lì a quel bene, invece dovremmo un attimo interagire di più con i ragazzi perché adesso i ragazzi sono un po' più abbandonati, io dico fra virgolette. I genitori lavorano tutti e due, quindi stanno comunque a scuola dalla mattina alla sera. Io genitore mi posso rendere conto che mio figlio è vittima di bullismo perché prima di tutto c'è una grande chiusura in se stesso. Non vuole andare a scuola, incomincia magari è successo all'elementare che anche se gli si dà la merenda e poi torna a casa e non l'ha mai fatta perché questa merenda magari viene presa dal bullo della situazione. Lo stesso come ci si accorge del bullo, perché è importante anche questo, perché il bullo comunque noi dobbiamo aiutare sia la vittima che il bullo, però se la vittima non parla per paura, per paura di essere sbeffezziato, preso in giro, noi dobbiamo invece stimolare le vittime a parlare perché se parlano ci aiutano a curare il bullo, perché chi sta male è il bullo, il bullo di solito vive in una famiglia magari violenta, magari non è considerato in famiglia e quindi porta tutto quello che è la sua frustrazione familiare nella scuola. È molto tattico e tecnico perché non è che dalla mattina alla sera decide che quello colpirà quel ragazzo, sceglie la sua vittima in modo proprio giusto, insomma, fra delle strategie per scegliere la vittima e colpirla. E non ci possiamo dimenticare tanti casi di bullismo di ragazzi che muoiono, che si suicidano per bullismo. Da Francesco Scerbo a Michele, a tantissimi ragazzi, potrei fare una lista immensa. Il bullismo sta prendendo sempre più piede. Io mi occupo del bullismo dal 1985 e sinceramente mi rendo conto che aumenta sempre di più. E i social sono anche un veicolo che ha aiutato questa implementazione del bullismo? Certo. Il problema è questo, che con il cyberbullismo e il social è tutto più rapido adesso, quindi io posso beffeggiare una ragazza o un ragazzo sul social, creare un gruppo chiuso e portare questa ragazza anche al suicidio. Non ci scordiamo il caso di Carolina Picchio. Carolina Picchio, che viene comunque pubblicato il suo video, mentre dei ragazzi la toccano, la palpeggiano, lei non sa niente, viene messo in internet e riceve tantissimi like. Lei poi si butterà dalla finestra, si ucciderà. Carolina Picchio nasce poi la legge 71, che è nata nel 2017, per prevenire il cyberbullismo e cercare di fare un qualche cosa. Però abbiamo bisogno di unirsi, io dico sempre, uniti facciamo la differenza, è il motto del centro nazionale. Perché comunque ci sono genitori dove hanno i figli che subiscono bullismo e non hanno supporto da nessuno. Possono chiamarci, iscriverci a info.chiocciolabullistop.com, noi gli diamo tutta l'assistenza gratuita che necessitano. Ci siamo, non li lasciamo soli. No, vogliamo proprio, come dire, omaggiare tutti i bulli perché sono un esempio da seguire. Insomma, è veramente quello a cui si ambisce. L'ambizione dell'essere umano è quella di praticare il bullismo sul prossimo. No, sul serio. La cosa più stupida, più brutta, anche perché si perde, nel bullismo sfrenato che vediamo adesso, davvero scherzi a parte rispetto a quello che dicevamo prima, si perde invece il gusto dello scherzo, dello sfottò. Perché adesso poi si confonde anche, c'è sempre stato una sorta di bullismo, fra virgolette, cioè dell'anziano in qualche cosa, dell'esperto in qualcosa che prende in giro la matricola. Ma se il fatto rimane un fatto goliardico e divertente allora ha un senso e ha un perché. Quando invece diventa un'aberrazione di un comportamento umano è una cosa da combattere in tutti i modi, anche perché è evidente il fatto che chi pratica il bullismo, cioè quindi i bulli, sono degli imbecilli.